Musica Ti piacerebbe accogliere persone provenienti da ogni parte del mondo? Ti piacerebbe confrontarti con persone di diverse culture? Vorresti gestire un'azienda? Ti piacerebbe lavorare nel webmarketing? Ti piacerebbe creare un pacchetto turistico e diventare tour operator? Ami la storia e vorresti diventare guida turistica? Ti piace il contatto umano e vorresti farne un lavoro? Ti piacerebbe dirigere un albergo? Ami le lingue e vorresti utilizzarle nel turismo? Allora l'accoglienza fa per te! Ti aspettiamo! Ciao!